Promessa mantenuta e il gioco di squadra premia sempre. Ha esordito così l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ieri pomeriggio ha fatto un sopralluogo sull'E78 tra i comuni di Cartoceto e di Colle al Metauro. La notte scorsa, infatti, nel rispetto dei tempi concordati circa un mese fa con le associazioni di categoria e le istituzioni locali, è stata riaperta la carreggiata interessata dai lavori in direzione Fossombrone, in tempi utili a garantire l'esodo feriale di tanti turisti che stanno scegliendo il nostro territorio per le loro vacanze. Assessore, sono stati rispettati gli accordi? Che lavori sono stati eseguiti e che cosa cambia con questo intervento? Finalmente un risanamento profondo a tratti, a stralci, perché altrimenti l'impatto sulla viabilità sarebbe insostenibile per una città come Fano e per tutto l'asse del territorio solcato dalla Fano Grosseto, dalla 73 Bissa. Un risanamento profondo fino a 70 cm del manto carrabile con una nuova generazione di lavori che facciamo nelle Marche e quindi siamo apripista rispetto a tanti altri luoghi d'Italia che vengono presi di solito a modello. Una rigenerazione a freddo degli asfalti che vengono rimossi con un costante monitoraggio da parte dell'Università Politecnica delle Marche. Questo significa che quell'asfalto rigenerato è sostenibile, non produce consumo di suolo perché non abbiamo bisogno di altro materiale cavato da siti estrattivi se non in minima parte, non c'è consumo di energia e abbiamo degli asfalti nuovi, innovativi e ecosostenibili. E cambia anche quindi il limite di velocità? Finalmente, dopo anni di limiti di velocità a 90 km all'ora in tratti stradali importanti come quelli che conducono verso una delle nostre principali città costiere anche di turismo e di grande interesse storico, artistico, culturale, quel limite viene riportato a 110 km all'ora, ossia ciò che è previsto dal Codice della Strada per le nostre superstrade. E sono previsti altri interventi sugli assi principali della nostra provincia? La nostra provincia è stata per troppo tempo, la provincia di Pesero Urbino, abbandonata dai lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria. In questo biegno 2022-2023 sono previsti circa 100 milioni di euro di investimenti sulle tre valli principali della nostra provincia, cioè la Valle del Foglia, la Valle del Metauro e la Valle del Cesano. La Valle del Metauro che è centrale a arterie importanti come la Fano Grosseto o come la Flaminia avrà circa 55 milioni di euro di investimenti. Questo ci dà l'idea di da quanto tempo queste strade fossero state abbandonate.